Cari amici vi annuncio che siamo alla quindicesima e ultima puntata di queste trasmissioni dedicate all'approfondimento della Amoris Laetitia, documento di Papa Francesco sul matrimonio e sulla famiglia. In questa quindicesima e ultima puntata noi riprenderemo brevemente lo scottante tema dei divorziati risposati e concluderemo analizzando il nono e ultimo capitolo della Amoris Laetitia che riguarda la spiritualità coniugale e familiare. Riprendendo un attimino il tema della pastorale dei divorziati risposati, dell'accompagnamento pastorale di questi fratelli e di queste sorelle il Papa ovviamente dice che la Chiesa non può rinunciare a esprimere la pienezza di verità del matrimonio però la Chiesa deve anche essere madre premurosa e misericordiosa che accompagna i suoi figli anche quando corre dice il rischio di sporcarsi con il fango della strada. A volte dice Francesco noi ci comportiamo come controllori della grazia però la Chiesa non è scrive una dogana ma è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Di conseguenza il Papa chiede alla teologia morale di adeguare il suo insegnamento a questi principi evitando di sviluppare una morale fredda da scrivania. E' bene perciò invitare tutti ad accostarsi con fiducia al colloquio con i pastori della Chiesa anche quando in questo colloquio non sempre troveranno conferma delle proprie idee o dei propri desideri però sicuramente potranno trovare una luce che permetterà di comprendere meglio quello che sta succedendo o di capire quale cammino di maturazione personale si può percorrere anche da parte dei divorziati risposati. L'ultimo capitolo della Amoris Laetitia il nono si occupa come dicevo della spiritualità coniugale e familiare e questo ultimo capitolo si apre con una splendida affermazione al numero 314 il Papa dice che la Trinità è presente nel Tempio della Comunione Coniugale è bellissima questa affermazione perché fa capire come la relazione d'amore tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ovviamente è il modello esemplare su cui si basa la relazione d'amore tra il marito e la moglie ed è proprio su questa base trinitaria che poggia secondo Francesco la spiritualità coniugale che in definitiva scrive al numero 315 è una spiritualità del vincolo abitato dall'amore divino e si traduce in migliaia di gesti reali e concreti che fanno maturare la comunione e nei quali Dio ha la propria dimora. Quindi la spiritualità coniugale non può non essere una spiritualità trinitaria prima di tutto una spiritualità che mutua il suo modo di essere dalle relazioni di amore tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Oltre alla dimensione trinitaria la spiritualità del matrimonio si modula anche su una dimensione pasquale L'abbraccio con Gesù crocifisso e risorto, scrive Papa Francesco, permette di sopportare i momenti peggiori mentre i momenti di gioia, il riposo, la festa si sperimentano come una partecipazione alla risurrezione di Cristo Croce e risurrezione è dunque la vita di ogni coppia di sposi, la vita di ogni famiglia Quella dei coniugi certamente è la spiritualità dell'amore esclusivo e fedele Nella certezza scrive Francesco che In questa luce ciascuno dei due coniugi si sforza di vivere una appartenenza del cuore Così la definisce Francesco e scopre che l'altro non è suo ma ha un proprietario molto più importante che è il Signore E quindi l'altro non è proprietà, è dono, dono del Signore Ogni coniuge dovrebbe poter dire al proprio coniuge tu sei un dono di Dio per me Tu non sei una mia proprietà, non sei una cosa che mi appartiene Ma sei un dono che Dio mi ha fatto Immeritato, gratuito, libero Considerate in questa luce l'amore degli sposi È un riflesso dell'amore di Dio Fa parte del sogno di Dio Fa vivere il coraggio di costruire con Dio un mondo dove nessuno si senta solo È bellissima questa affermazione di Papa Francesco Il grande sogno di Dio è quello di costruire un mondo dove nessuno si senta solo E gli sposi cristiani sono chiamati da Dio a favorire questo suo sogno Quando le famiglie vivono bene l'ideale del matrimonio, il Vangelo del matrimonio È chiaro che le persone non si sentono sole Le persone possono non sentirsi sole nella misura in cui possono contare su famiglie calde Su famiglie accoglienti, su famiglie dove si sperimenta quotidianamente l'amore di Dio Questo porta, dice il Papa, a contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio Riconoscendo che ogni persona nella famiglia è la presenza stessa di Cristo È questo che rende possibile la tenerezza del sentirsi amati E la capacità di volgersi con attenzione anche ai limiti dell'altro continuando ad amarlo Se è presenza di Cristo, l'altro va accolto con i suoi pregi e con i suoi difetti Il Papa conclude affermando che nessuna famiglia è una realtà perfetta Una realtà confezionata una volta per sempre Ogni famiglia richiede un graduale sviluppo nella propria capacità di amare Altrove il Papa ha detto che la costruzione di una famiglia e quindi di un matrimonio È qualcosa di artigianale, si è espresso proprio in questi termini Per cui artigianale vuol dire che quotidianamente si va costruendo il bene di un matrimonio e di una famiglia È ovvio che questa costruzione viene accompagnata dalla grazia La grazia che si ottiene attraverso il sacramento del matrimonio e che si trasmette poi nella vita di tutta la Chiesa e di tutta la società È la grazia santificante, la grazia anche fortificante La grazia che va costantemente invocata e attinta con la preghiera e con i sacramenti Perché i canali della grazia sostanzialmente sono la preghiera e i sacramenti Spiritualità coniugale e familiare quindi significa poi in concreto anche preghiera e pratica dei sacramenti È molto importante da questo punto di vista la preghiera anche tra i due coniugi Purtroppo molti coniugi, anche cristianamente molto impegnati, si vergognano a pregare insieme Non sono capaci di pregare insieme, non trovano il tempo di pregare insieme La preghiera di coppia è invece di fondamentale importanza in questa costruzione artigianale del matrimonio Così come è di fondamentale importanza la partecipazione in comune alla messa L'educazione cristiana dei figli, l'accostarsi frequentemente al sacramento della confessione La guida spirituale anche di coppia Sono tutti strumenti attraverso cui si va costruendo cristianamente, evangelicamente Quella famiglia che si basa sulla grazia sacramentale del matrimonio Penso che possiamo così concludere tutta questa nostra lunga disamina del documento pontificio Amoris Letizia E possiamo concludere dicendo che questo bellissimo testo che abbiamo analizzato nel corso di ben 15 puntate E' un testo che sicuramente rappresenta una pietra miliare nell'insegnamento magisteriale della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia Sappiamo bene come questo testo di Papa Francesco non sia stato accolto entusiasticamente da tutta la Chiesa Alcuni lo hanno accolto con eccessivo entusiasmo Altri lo hanno accolto con vera indignazione direi quasi o con protesta L'equilibrio anche in questo caso è la virtù migliore Si tratta di un insegnamento che non sconvolge assolutamente la dottrina tradizionale della Chiesa sul sacramento del matrimonio Ne poteva farlo ma certamente apre orizzonti nuovi su un piano direi squisitamente pastorale e disciplinare Un conto è cambiare la dottrina, un conto è modificare la disciplina Tra la dottrina e la disciplina c'è una differenza enorme L'amore siletizia non cambia la dottrina della Chiesa sul matrimonio Ma certamente dicevo apre nuovi orizzonti nella disciplina sacramentale Ma soprattutto nell'azione pastorale in ordine al matrimonio e alla famiglia Con questo pensiero io vi ringrazio, vi saluto di avermi seguito nel corso di ben 15 puntate E vi porgo il mio più cordiale saluto